Sensazioni, emozioni, gesti d'amore racchiusi in uno scatto. Per il vostro matrimonio scegliete GM Immagine di Giuseppe Miro, che attraverso la cura dei particolari, l'alta qualità dei materiali impiegati e la continua ricerca di nuove soluzioni artistiche e tecnologiche vi permetterà di rendere indimenticabili momenti unici. GM Immagine realizza inoltre servizi fotografici e video per battesimi, comunioni cresime e book fotografici, esclusivista di zona Album Carlo Pignatelli. Le copie che prenoteranno il matrimonio entro il 31 dicembre riceveranno in omaggio un weekend in una capitale europea, tre poster con le foto del giorno più bello e due album offset da regalare ai testimoni. Per tutti gli altri eventi venite a scoprire le fantastiche promozioni a voi riservate. GM Immagine, via Enrico Berlinguer 60, Melito Portosalvo, info 342 80 18 023. Trasformiamo in immagini le vostre emozioni.